Prima giornata della tappa di Porto Rotondo del Mages 24 della Volvo Cup, una sola prova fatta purtroppo, ovviamente anche questa, vinta da Saed. Ovviamente, no è andata bene, siamo stati fortunati, partiti bene, veloci, abbiamo interpretato bene il campo che comunque è abbastanza ballerino, c'era anche un po' di corrente, si è riusciti a girare davanti, abbiamo mantenuto distacco, è andata bene, dai. Sta diventando una consuetudine ormai per voi vincere. Dio, non saprei cosa dire perché in queste cose è sempre meglio non rispondere, però sì dai, stagione è partita bene, sta proseguendo bene, stiamo lavorando per continuare a avere questi risultati. E vabbè, cosa vi aspettate da questa tappa appena cominciata? Ci aspettiamo di essere veloci perché abbiamo provato nuovi materiali, quindi il nostro lavoro è per arrivare all'europeo preparati per cercare di far bene in Danimarca.